Nel video di oggi prenderò il famosissimo fumettista Leo Ortolani, autore di Ratman, e lo inserirò all'interno del poster del film Caccia a Ottobre Rosso. Iniziamo con la progettazione. Grazie a tutti. 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 Ho fatto molta fatica a fare questo poster, un po' perché non trovo le immagini giuste, c'erano quelle sgranate a bassa risoluzione, un po' perché il progetto iniziale era un poster in un'altra posizione, con altri colori, con altre impostazioni e così via. Poi sono molto più carico perché il prossimo video sarà quello dei 200 iscritti a stile Attacco dei Giganti, quindi io ero molto concentrato sul prossimo video e non su questo. Però tutto sommato il risultato ci sta. Io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto il video, dubito, però lasciate un bel like, commentate e condividete questo video. Noi ci vediamo al prossimo video che dovrebbe essere quello sui 200 iscritti a tema Attacco dei Giganti, che sicuramente vi piacerà molto.